Un omicidio è stato compiuto nel pomeriggio di venerdì 22 maggio a Cuneo, dove una donna di 44 anni, residente a San Luzio, è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nel piazzale del supermercato Ocean. Il presunto killer Francesco Borgheresi, militare 42enne, residente a Firenze ma a distanza a Pinerolo, si sarebbe poco dopo costituito ed è stato arrestato in stato confusionale. Ancora poco chiari i dettagli dell'omicidio su cui continuano le indagini. Secondo le prime discrezioni, la vittima sarebbe Micaela Postolides, 44enne di origine rumena, residente a San Luzio. Il suo cadavere si trovava sul sedile anteriore di una panda bianca. A dare l'allarme è stata una cliente che ha sentito i colpi di arma da fuoco e poi notato il corpo senza vita. Sul posto sono intervenuti uomini della squadra mobile, delle volanti e della scientifica. La donna uccisa, secondo le prime informazioni, è stata colpita al petto da almeno 4 colpi di pistole esplosi all'interno dell'auto. Il presunto omicida, probabilmente si tratta del compagno della vittima, avrebbe atteso l'arrivo degli agenti vicino al mezzo parcheggiato sul piazzale. Resta da chiarire il movente. I due si conoscevano da almeno due anni e sono arrivati nel parcheggio insieme. L'assassino era in possesso di due pistole regolarmente detenute. Dopo aver ucciso la compagna, ha chiamato le forze dell'ordine denunciando quanto era successo. Venite a prendermi, non opporrò resistenza. Grazie a tutti.